Ciao amici benvenuti nel mio canale guarda e impara.il fenomeno Karen Bursin continua inarrestabile nel mondo della televisione. Dalla sua acclamata interpretazione in L'amore è nell'aria, l'attore ha intrapreso una vertiginosa ascesa verso la fama sia nel suo paese natale, la Turchia, che in tutto il mondo. La devozione che genera si riflette nelle migliaia di commenti che inondano i social network e di cui ha catturato l'attenzione negli ultimi mesi, una proiezione che lo incorona come uno degli artisti più eccezionali dei nostri giorni.Il suo successo imbattibile si manifesta nella sfera digitale, dove il suo account Instagram conta più di 11 milioni di follower. Insieme ad attori famosi come Burak Denis, Kanyaman o Ibrahim Celicol, Karen Bursin ha oltrepassato i confini e si è affermato come una vera star nella sua nazione. A confermarlo è l'attore più chiacchierato degli ultimi tempi in rete, secondo un recente studio condotto da Adba TV, agenzia media specializzata in analisi digitali, secondo cui Karen Bursin avrebbe accumulato nell'ultima settimana di agosto una quantità sorprendente di 47.000 messaggi, il doppio del secondo classificato, Kanyaman, che ha ricevuto 23.700 commenti. Al terzo posto si trova Burak Denis, il nuovo partner di Andercell nella narrativa, con 16.100 messaggi, mentre Alp Navruz chiude la top 10 con 10.600, risultato ancora più rilevante dato che Karen Bursin è in testa alla classifica per l'undicesima settimana consecutiva. Da metà giugno, quando ha promosso la sua nuova serie Yakok Seversen, presentata in anteprima il 6 luglio in Turchia, la sua popolarità sui social media è in aumento. Dall'essere tra i primi posti solo una settimana prima, l'attore è salito al primo posto, mantenendolo da allora. Da giugno ha accumulato un totale di 497.000 commenti.